Ecco l'entrata in campo per il quarto torneo di calcio giovanile Memorial Massimo Scalinci c'è l'ingresso in campo della Virtus Castelfrentano con la classica maglia, seconda maglia ufficiale bianca con risvolti giallorossi, calzettoni gialli e la testa Mario Tano ok più avanti un po' più avanti un paio di metri due mantiene l'estremità sopra gli altri due ginocchi uno ginocchio e due lo prende per sopra ok o schieratevi bene che c'è lì no? ok vai un attimo di attenzione ecco adesso c'è il cerimoniale di apertura del Memorial un po' più avanti 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.